I componenti della nostra lista possono dare un apporto variegato perché ciascuno di loro è specializzato in campi differenti, quindi abbiamo ad esempio un ingegnere chimico che è molto bravo nelle questioni ambientali, abbiamo un avvocato, abbiamo comunque varie specializzazioni che ci possono permettere di poter portare delle competenze al comune e di poter dare una certa specializzazione a quello che andremo a fare. La nostra lista è composta per lo più di ragazzi tra i 30 e i 40 anni, anche se abbiamo anche qualche giovane studente che ci aiuterà a comprendere meglio le problematiche giovanili e i desideri dei giovani di Villa Cidro che cercheremo di tenere nel nostro territorio piuttosto che far emigrare alla ricerca di lavoro all'estero o in continente. Nella nostra lista è presente una buona percentuale di donne e infatti pensiamo che questo apporto sia molto importante perché la capacità organizzativa e le competenze delle donne possono veramente poter fare la differenza anche nell'organizzazione del comune. Potenzialmente dovremmo essere la lista più giovane, anche se il discorso dell'età è relativo, nel senso che una persona che si propone alla vita pubblica, alla vita politica tra i 30 e i 40 anni non si può neanche definire giovane perché a 30 anni una persona dovrebbe già comunque aver impostato la sua vita e non essere più considerato un immaturo neanche nel campo della politica. Il nostro programma prevede una suddivisione delle attività per obiettivi. Noi abbiamo scelto infatti di individuare prima quali sono gli obiettivi da sviluppare e poi per ciascun obiettivo abbiamo proposto delle possibili soluzioni sulla base soprattutto di quanto è emerso dagli incontri che abbiamo fatto con le parti sociali e con i cittadini prima della presentazione delle liste. Riteniamo che il programma abbia una parte principale che riguarda le politiche sociali perché riteniamo che siano un'emergenza del Paese e il Comune deve tenere in dovuto conto delle problematiche sociali e di povertà che purtroppo in certi quartieri del Paese esistono e sono anche insistenti. Nello stesso modo abbiamo preso in considerazione la problematica riguardante lo sviluppo economico perché riteniamo che i principali produttori di lavoro e quindi di benessere nel territorio devono essere le imprese. Gli elettori dovrebbero scegliere Villa Cidro Futura soprattutto perché rappresentiamo delle persone credibili e possiamo dimostrare che anche quanto scritto nel programma è fattibile, è raggiungibile perché ci siamo posti il problema del reperimento delle risorse ci siamo posti il problema di come poter effettivamente realizzare i programmi ma soprattutto noi siamo delle persone che intendono mettersi a disposizione del cittadino e con la loro serietà, con il loro impegno e vogliono dimostrare che l'amministrazione pubblica può andare bene, può essere efficiente e i risultati possono vedersi.